No, decisamente no e ancora no alla realizzazione della nuova sede degli uffici regionali nell'area di risulta di Pescara. La sezione cittadina di Italia Nostra ha chiamato a raccolta personalità e associazioni per opporsi al progetto annunciato dalla Regione e dal Comune. Per Italia Nostra l'insediamento non farebbe che moltiplicare il traffico di urno, oltretutto con un effetto divora parcheggi che penalizzerebbe l'area commerciale del centro cittadino, senza contare che, a detta sempre dell'Associazione, dopo le 17 alla chiusura degli uffici regionali la zona tornerebbe deserta. Ma è soprattutto una la ragione per la quale l'Associazione, insieme a tante altre, si è detta contraria al progetto, perché riduce drasticamente il grande parco centrale, motivo per il quale l'area fu acquisita. Riprendiamo l'antica ispirazione per la quale queste aree 35 anni fa furono acquisite, la realizzazione del grande parco centrale di Pescara. E' la ragione per la quale l'amministrazione delle ferrovie, abbiamo i testimoni di quell'incontro, abbassarono i prezzi e potemmo acquistare quest'area. Oggi è possibile fare questo perché abbiamo a disposizione uno stanziamento pubblico che loro hanno portato a 17 milioni e mezzo, con i quali si potrebbe realizzare in tempi ragionevoli, questo che diciamo, cioè il parco centrale, per ripensare poi urbanisticamente, con il tempo che ci vuole, l'intera area. Perché la crisi del centro di Pescara non si risolve per addizioni, si risolve ripensando i fattori della sua attrattività, che è storica e che la, diciamo, designa almeno dal dopoguerra. Appuntamento dunque il 29 ottobre al dopolavoro ferroviario nell'area di Risulta, a partire dalla mattina, per una maratona di musica, teatro e spettacoli vari, con il Florian con Nanduccio e i 99 Cosse, con il cantautore Domenico Imparato e tanti altri. E noi intramezzeremo queste esibizioni con dei forum sulla storia dell'area, sui svolti bioclimatici importantissimi che un'iniezione di verde al centro di Pescara può determinare. Questa è un'area di 13 ettari. Hanno cacciato fuori le carte loro, insomma. Ma il parco è dell'ordine dei 4 ettari, 3 ettari 8, insomma, due volte Villa dei Risi, che dire, insomma, per farci capire. Mentre noi pensiamo a una forte iniezione vegetale, la nostra vegetazione autoctona e dentro poi le attività di aggregazione di cui proprio il centro di Pescara ha bisogno.